Amedeo Modigliani è uno degli artisti italiani più amati al mondo. Nato a Livorno, si trasferisce a Parigi, dove conduce una vita spericolata, segnata da problemi legati all'alcol, ai soldi, agli scandali e ai problemi con le donne. Pittore, scultore, modi, come lo chiamano i francesi, guarda con interesse artisti come Cézanne e Gauguin, ma anche i macchiaioli, i grandi maestri del gotico senese e del rinascimento italiano, come l'arte egizia e negra. Il suo stile rimane unico e non entra a far parte di nessun movimento. Importanti nella produzione di Modigliani sono i ritratti dai colli lunghi e i nudi. Abbiamo così un delicato equilibrio tra eleganza ed erotismo. Viva la vita!